guidati, anche le sbagasciate nude nel letto. Avanti, che c'è? Forza, forza ladri, forza ladri, sbagasciati, forza. Che c'è? Che avete trovato? Senti, tu devi andare a cagare nel culo di quella vacca di tua madre. E da domani, da domani, da domani, da domani ci avrai tre persone che ti verranno a spaccare il culo. Vai a fanculo, da domani sei finito. Da domani ci avrai tre persone o quattro venute dalla Sicilia che ti spaccheranno a pezzi. L'unico pezzente con i pidocchi in testa e con le piatto nel culo. Ecco, vai a fanculo.